Un altro ragusano alla presidenza della SAC Catania si tratta del numero uno di Confindustria Ragusa Enzo Taverniti. L'elezione è avvenuta sabato scorso nel corso dell'Assemblea dei Soci della Società Catanese che ha eletto come amministratore delegato l'ex presidente Gaetano Mancini. Al neopresidente sono arrivati in questi giorni gli auguri dell'intero territorio ebleo. Per la CNA provinciale la sicurezza che la soluzione individuata sarà quella definitiva e che non incorrerà nella serie di ricorsi e controricorsi che purtroppo hanno caratterizzato la precedente elezione. Infatti si attende il 7 gennaio per conoscere l'esito del ricorso presentato dall'ex presidente Gennone in merito alla sospensiva del Tribunale Tneo. Anche per il presidente di Confcommercio Sergio Magro commenti positivi. Siamo sicuri, ha detto Magro, che il neovertice cercherà di dare continuità all'azione portata avanti da Gennone. Soddisfazione è stata espressa anche dai vertici locali di Confcooperative e Confindustria e dal presidente della sua ACO Rosario Di Bennardo. Siamo certi che i nuovi vertici riprenderanno l'azione portata avanti in pochi mesi dal due torrisi Gennone per l'aeroporto di Comiso, ha detto Di Bennardo, e che aveva subito rallentamenti in queste settimane di incertezze.